Una segnalazione rivela l'indiscrezione bomba su Gaia e Daniele proprio ad un giorno dalla romantica scelta andata in onda. Alla fine l'amore ha trionfato e Daniele è stato anche piuttosto rapido nel capire con chi voleva provare una conoscenza in esterna. Il suo percorso infatti non è durato tantissimo, come è avvenuto in altri casi e il tronista è apparso molto deciso su quello che desiderava per la sua vita privata. Ieri un momento profondo e romantico in cui è stata mandata in onda la scelta, precedentemente registrata, che ha interessato proprio Gaia. Tuttavia dopo petali e commozione, c'è un aspetto del tutto nuovo che si sta facendo strada sul web, in particolare una segnalazione scottante. Gaia e Daniele, arriva la segnalazione bomba dopo uomini e donne. In occasione della sua scelta, Daniele aveva anche chiarito i motivi che lo spingevano verso Gaia e non Marika, non scelgo te non perché tu sia di convenienza, ma perché dall'altra parte sento qualcosa di più forte. La donna si è commossa ma ha anche affermato di sapere già che la scelta del tronista era Gaia. Un nuovo scandalo sembra toccare uomini e donne, in particolare la scelta di Daniele avvenuta proprio nella puntata di ieri, 23 maggio. Secondo diverse testimonianze infatti i due non erano realmente estranei, come dovrebbe essere da regolamento. Una ragazza nello specifico ha dichiarato di aver sentito la stessa corteggiatrice dire a telefono tutto questo. A condividere la notizia è proprio l'esperta gossip dei Anira Marzano che pubblica una delle segnalazioni che le arrivano ogni giorno. I due, secondo quanto riportato, si conoscevano da anni e da tempo si scambiavano reciprocamente like ai post sui social. In realtà la cosa sembrava già abbastanza palese e moltissime persone sospettavano che i due non fossero estranei. Avevano notato i mi piace sui social addirittura anni prima ma anche un atteggiamento confidenziale durante il programma. Alla fine poi è arrivata la presunta conferma della testimone. Confermo. Ti dirò, andiamo dalla stessa estetista e una volta l'hanno sentita parlare a telefono e pare fosse preoccupata che la cosa uscisse fuori. Non si capiva con chi parlava, pare fosse un'amica scrive la persona. Ovviamente non ci sono certezze a riguardo dal momento che i due non hanno mai detto di esserci già conosciuti o aggiunto parole su questo rapporto. Gli utenti però sono impazziti, dal momento che avevano fiutato qualcosa di strano e sconveniente tra i due.